siamo sulla torre ragazzi miei la torre solito posto hangar c'è il nostro fascia strana sur che ci aspetta oggi l'abbiamo beccato senza spostarci abbiamo fatto una predict che te dico fermate e vende il prospettore allora l'arma che ho e che da gratis questo mese bungee tramite il twitch prime è il prospettore e sur ha deciso di riproporcelo qui come troll che troll regata troll prospettore c'ha il suo perché scavazione tieni premuto il tasto per sparare in questo caso per lanciare granate rilascia per far detonare simultaneamente tutte quelle attive le granate si attaccano alle superfici incendiano anche i bersagli in più c'ha autofuoco e tamburo potenziato vabbè insomma lancio volate un lancio granate che per un periodo era quando insomma quando c'era lo sciame eccetera eccetera poteva essere usato un po come ruota d'escorta adesso poi è gratis gratis i bombardieri bombardieri si sono precedente not bad c'è o meglio not bad non esso non so sto granché ho visto qualcuno che fa delle build interessanti se vi mettete di tipo la schivata insomma se state sempre a schivare i bombardieri possono essere utili o divertenti diciamo divertenti più che utili schivare lascia gli spalle un esplosivo che detona dopo un breve lasso di tempo danneggiando i nemici nelle vicinanze quindi lanciate le bombe quando schivate quindi se siete in mezzo ai nemici anche in crugiolo volendo si può fa qualcosa del genere però insomma è più divertente che utile estesotica spallarci zanna della sventura caro luke smith collega lo sto twitch prima che magari droppi anche tu e ss 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 luke smith lo salutiamo che ci guarda sempre da casa raga mentre facciamo xuro comunque spallarci zanna della sventura perso super stonks del titano tv e vuoto se dovete fa la bolla le uccisioni corpo a corpo da vuoto friscono energia della super mentre scudo della sentinella è attivo le uccisioni corpo a corpo ricarica uno scudo volante il quale estende la super a ogni colpo questa la seconda parte se usate la super la prima mentre non siete in super il che non è male se volete ricaricarvi la super in fretta questo è un buon pezzo calcolate che non è forte come prima perché l'hanno un po' annerfato però lo stregone se becca la corona delle tempeste altro pezzo che ho usato l'altra sera per fare i vari ride mi avete chiesto sempre com'è forte raga forte rebi contuttori le uccisioni con abilità d'arco aumentano la velocità di ricarica delle tue abilità ed estendono la durata di trans della tempesta quindi se usate la super dello stregone ramo sopra ramo sotto questo del pezzo che fa per voi perché non c'è pezzo migliore per lo stregone ad arco pv e pv e quindi vabbè i pezzi non sono male rega queste roba hanno uno ok però insomma se non perché lì di voi che magari anni sono dopo che non ce l'hanno sono due pezzi buoni i bombardieri sono divertenti il prospettore bella